Schneider Electric è impegnata da anni nell'opera di efficientamento dell'industria e anche adesso del servizio idrico da qualche tempo. Portiamo per questo motivo soluzioni, prodotti, applicazioni e consulenza e servizi che possano aiutare il servizio idrico a gestire con efficienza la risorsa acqua, che è una risorsa importante che non deve essere mai sprecata. In Italia abbiamo già diversi clienti che hanno iniziato questo percorso insieme con noi e che stanno ottenendo dei risultati importanti.